Nome Quali sono i vostri hobby? Io gioco con la play e mi alleno Io play e modo Io vado a box e faccio le impennate col ciao Ritornando in pista il vostro punto forte e il vostro punto debole? Punto forte penso alla staccata e punto debole a volte la concentrazione Aggressivo, poco lucido Punto forte scorrevolezza in curva Punto debole uscita di curva Obiettivi per quest'anno e per il 2015? Io spero di vincere la Rookies Cup Anche se è difficile spero di andare al moto mondiale Vincere il Civ e arrivare al moto mondiale Io vorrei far bene nel Civ e poi vedere st'altro anno cosa si fa Ciao ragazzi grazie Ciao Ciao